Benvenuti sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua per un prova e fuggi, su questo Almost My Floor, titolo che ho ricevuto in K e volevo ringraziare gli sviluppatori, titolo che purtroppo non ha l'italiano, ha solamente l'inglese e il russo, ma visto che il russo non lo capisco, forse è meglio l'inglese. Andiamo ad iniziare questo gioco insieme e vediamo cosa ci riserverà. I criminali provano a giustificarsi loro stessi con i fantasmi, demoni e altre cose occulte. Io non ho mai creduto a queste cose, non ho mai creduto fino a questo punto. Fino alla vera fine. Prologo, uno di questi giorni. Ehi, tu devi confessare quello che hai fatto. Ti dirò tutto ufficiale, cioè ufficiale, sceriffo, non ufficiale, cosa vuol dire. Tutto è partito dal normale giorno noioso. È difficile da dire, da sapere, insomma, com'è partito, va bene. Lui era molto stanco di questo, della vita che stava facendo, forse. Eccoci qua. Finalmente siamo a casa. Non mi sto muovendo io, ma è il gioco che si muove in automatico. Un ultimo respiro di aria fresca. Vabbè, al massimo apri le finestre e c'è l'aria fresca, no? Cosa cambia? Che poi aria fresca in città, ne parliamo. Allora, con L si cammina. L e L2 si corre. Con triangolo c'è un aiuto, immagino. E vabbè. Ah, è tipo un punta e clicca. Vabbè, queste sono le classiche bacheche. Mailbox. Andiamo allora. Allora, nessuno ha delle multe. Bollette. Questo è interessante. Un mondo di ingegneri elettrici. Magazine. È un magazine. Aspetta un secondo. Questo è per Masha. Lei non dovrebbe leggere questo. Perché? Che te frega. Scusami, eh. Ok. Un altro magazine. Qualcuno legge... Legge... Magazine di carta? In questi giorni? Come per dire, sono passati di moda. Parla di un gioco. Ok. Vabbè. Ah, Masha. Che posso fa? Questo guardare, questo è baciare, no? Sarà parlare, immagino. Ah, ecco, infatti. Sembrava più un bacio. Ciao, Masha. Mi stai aspettando? Stavo leggendo un libro che si chiama Pick Up for Dummies. Sembra noioso. Ehm... Ho visto... No. Ho visto, no. È brutto che controllo la sua posta. Scusate, eh. Cioè... Vi pare? Vorresti mangiare insieme stasera qualcosa? Niente. Si vede che lui gli lo chiede ogni sera e la risposta è sempre no. Sta aspettando un'amica o un amico. Niente che ti dovrebbe importare. Posso anche non dirglielo questa cosa qui. Beh, e se gliela dico? Boy. Masha è veramente bella. Beh, in effetti questo è vero, eh. Proviamo a dirgli anche questa cosa qui. Ti aspettavi di trovare l'arte di Borscht o qualcosa del genere? Vabbè. Non è una che vuol parlare molto. Nota. Sembra che non sia proprio messo benissimo, eh. Oh, un ragno. Cos'è? Ragnofobico? No, 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 no. Ma non voglio ucciderlo, scusatemi, eh. Che poi comunque riesco... Cioè, volendo riesco comunque a passare, quindi... Non voglio disturbarlo. Io farei le scale. Perché, niente, lui è al settimo piano, quindi non vuole... Non vuole farsi le scale, in poche parole. Va bene. A sto punto... Niente. Deve chiedere a vicino una crewbar per entrare dentro. Cos'è? Tipo una... Qualcosa per scassinare? Ma fare scale? Piuttosto che disturbarlo. Ma perché devo per forza disturbarlo? Cioè, è... È curiosa questa cosa. Scusi? Non mi sembra molto... Molto vivo, eh. Ma non posso ucciderlo, ripeto. Ah... Cos'è? L'ho trovata? No. Con triangolo vedi le cose vicine con cui puoi interagire. Ah, ecco. Ma che ca... C'è una cosa che non va, eh, in questa tazza di caffè. Non so cosa mi servirà, però... Cosa fa? Domanda. Perché? Quindi? Tutto questo per... Per di cosa? Chiediamo alla signorina se mi può aiutare. Oh... No, aspetta un secondo. Masha, tu sei assolutamente bellissima oggi. Scusami, ma non ho mai realizzato, ma tu sei intelligente. Vabbè, lasciamo stava. Vabbè, parla del fatto che ha bisogno di qualcuno, insomma, per entrare all'ascensore. Cos'è che mi ha dato? Che? Ah, sì, però ho capito, ma io... Sto ragno, allora come lo... Cosa faccio? Ah, posso intrappolarlo con... La tazza, come si chiama? Sì, avete capito, dai. E addirittura... Comunque, devo dire che... La violenza non è una risposta. Eh, lo so. Devo dire che... È bellissimo il gioco in sé. Cioè, è veramente carino. Sì, però io vorrei vedere... Tipo così? Non ho capito se sia... Sì, va benissimo. Così dovrebbe andare bene. Questo qua lo mettiamo qui. Questo blu... Sì, va a metterlo qua. Ok. Questo in teoria no. Ma mancano quelli verdi. Ho sbaglio. Cos'è questa? No, scusatemi, eh. Blu più giallo fa verde. Così. Blu più rosso fa viola. E rosso per... Ma che c... Che mi rappres... Ho fatto la foto, eh. Perché si sa mai. Visto che non posso guardarci. Sprevo. Vado a capire. Questa cosa mi serviva, sta. Vado a capire. Vado a capire. Ma questo mi sa che andava bene. Anche questo andava bene. Mi manca solamente il blu. Allora, il blu c'era. Ok. L'arancione non lo so io. Ci sto capendo una fava. Un attimo, eh. Forse sto iniziando a capire. Ah, rosso. È vero, è vero. Ok. Poi c'è... Mi fa rosso e blu. Ok. E mi manca... Eh, però così non va bene. Così non va bene, assolutamente no. Questo va bene, ok. Però scusate, eh. Cioè, io non sto facendo pazzo. Cioè, per il viola... Per il viola, scusatemi, eh. Che ci guardiamo subito. Ci vuole, eh, blu e rosso. Quindi, in teoria... E' ok. Mentre... Per il verde ci vuole blu e giallo. Quindi... Fare una cosa del genere. Ok. Blu e giallo. Mi manca... L'arancione. E' già... E' già collegato. Che mi manca? Ma... Ma... Ma ci sono pochissimi cavi, o sbaglio? No, no. Non voglio skipparlo. Che è successo? Che è successo? Perché? Non ho capito... Che è successo? Ce l'ho fatta, no? Non sto capendo. E quindi che devo fare? Cioè... Nel senso... Se non mi risponde... Vabbè. Io sinceramente... Oh... Qualcosa si è mosso. Madonna. Che braccio che c'ha. C'ha un braccio gigante. Vabbè. Comunque ripeto. Artisticamente il gioco non sembra male, eh. I disegni. Come sono fatti i personaggi. Sono... Sono ben fatti. Amico. Amico. Amico mio. Amico mio. Usa un po' di intelligenza. Non devo dirtelo io, eh. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Dopo soli 16 minuti siamo riusciti a andare su. In casa. Non era facile. 10 minuti dopo... La quarta canzone è finita. Questo viaggio... Non è ancora fin... Non è ancora finito. 141esimo. Cosa sta succedendo? Dovrei già essere arrivato. Ah, ho capito. È già finita la quarta canzone che ascolta e non si è ancora fermato l'ascensore. Non c'è connessione. Io sono dentro a un... Un dannato ascensore. Tutto sembra come quel film Elevate of Death dell'altro la sera. Eh... O forse sto guardando troppi film horror. C'è una cosa che non va. Assolutamente no. Lasciatemi uscire. Porraccio. Ades calma. Ricordati il film. Cosa faceva il protagonista? Che ne so io. Ah, mi ricordo. Eh, che faceva? Ha schiacciato ogni... Ogni bottone. Ed è morto. Cattivo esempio. Che è successo? Che è quella faccia, amico mio? Ah! Il piano della morte. Beh, fantastico. Poveraccio, dai. Capitolo 1 The Edge of Reality Vabbè È molto buio qua. E non solo buio. Questa sta accadendo. C'è uno scudo. Prendiamo. È uno scudo, penso di sì. Ma che ca... Ma com'è morto? Ma com'è morto? In che senso? Ho preso lo scudo. È ok. Ma perché sono morto? Devo dire che non lo sto capendo molto, eh. Se io piglio lo scudo... Ma ho capito. E basta dirlo prima, eh, però. Questo misterioso andante. Ma la domanda è cos'è successo? Lo sconosciuto fa paura. Queste cose brutte. Sta venendo in faccia. Non molto bene. Insomma, non è una cosa molto bella. Sono terrificanti. Che cavolo... Perché mi è andato uno scudo ma non una spada? Guardatemi la spada. Ah, mi è andato l'ascensore. Semplicemente. Non la spada ma l'ascensore. Vabbè, comunque. Dove è abbastanza così basito, sorpreso? Quindi voglio essere in un horror movie. Questi occhi sono nella mia testa. Sembra quasi che mi guardano di continuo. Andate via. Sta impazzendo. Sta impazzendo. È evidente. Questo è tutto un brutto sogno. Mi sono addormentato nell'ascensore. Soffro di insonnia. Ho sofferto di insonnia per settimane. E l'ascensore si fermerà al settimo piano. E andrò a casa e sarò contento. Davvero è successo, eh. Qui sono loro che hanno programmato tutto, mi sa, eh. Ehi ragazzi, parlate di me? No. Mi hanno fatto un complimento che non hai idea. Sto migliore di te. Devo andare. Sono cose importanti da fare. Piuttosto che stare qui a parlare con voi. Che è successo? Ma che sta succedendo? Era tutto uno scherzo di questi due idioti? Non è un po' troppo. Io sento degli urli. Ah, la mia testa. No, ok. Sta impazzendo. Che succede? Sembra di micrania. Niente di così strano. C'è il telefono che suona. Chi mi sta chiamando? Hello? Hai dimenticato le mie raccomandazioni? Le teni attualmente sotto controllo. Devi dire sove di puzzle, così via. Ti aiuterà contro le micrania. Fai funzionare il tuo cervello. Ricordati di prendere le tue pillole. Ma che c***o? Ragazzi, il gioco è molto, molto intrigante. Molto intrigante. Se volete qualche altro episodio, volentieri, io intanto mi fermo qua. Per il momento, come primo contatto, come primo prova ai fuggi, ci può stare. Vi ringrazio, molto ringrazio la Casa di Sviluppo che me l'ha inviato. Vi ricordo anche il link in descrizione per supportare il canale. E ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi e alla prossima!